Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi ho deciso di parlare di un argomento molto particolare, ovvero sostenibilità legato alla genitorialità. È possibile essere sostenibili quando si hanno dei figli? Allora vi do la risposta immediatamente, no, secondo me non è possibile essere sostenibili, ma ovviamente adesso vi spiegherò perché. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di attivare la campanella in modo da ricevere una notifica ogni volta che uscirò un nuovo video. E se non lo fate già di seguirmi su Instagram, io sono Martina Tazza. Cominciamo! Come ho detto all'inizio del video, secondo me non è possibile essere dei genitori completamente sostenibili, però insomma ovviamente adesso vi darò le mie motivazioni. Prima di tutto parto col dire che prima di diventare genitori, chi si è avvicinato ad un percorso di sostenibilità ha grandi idee per questa genitorialità che sta arrivando. Quindi l'idea, non so, dei pandolini lavabili, per esempio ora nel nostro caso non era, insomma, non era il nostro caso perché la nostra bambina ha sei anni, però insomma sicuramente si pensa anche a questo, giocattoli di legno, vestiti di seconda mano o comunque made in Italy, non toccherò mai la fast fashion, H&M, Zara e così via. Insomma diciamo che ci facciamo delle grandi promesse e sicuramente abbiamo le migliori intenzioni per mantenerle, ma la realtà è un po' diversa. Da quando sono diventata mamma le mie più grandi difficoltà sono state principalmente due. La prima riguarda i regali, perché durante l'anno ci sono tantissime occasioni durante le quali i bambini ricevono regali. Immaginate una bambina adottata che è appena arrivata a casa e che deve essere conquistata da tutta la famiglia e dagli amici. In questo caso noi non abbiamo il potere di decidere che cosa le verrà regalato, quindi arrivano giocattoli in plastica, arrivano vestiti provenienti dalla fast fashion, arrivano insomma anche a volte cose inutili, è abbastanza normale, però appunto purtroppo questo non è assolutamente sostenibile. L'altro ostacolo alla sostenibilità è semplicemente il fatto che stiamo parlando di bambini. I bambini quando entrano in un supermercato o in un negozio sono attratti dai giocattoli, dalle cose che vedono in televisione, quindi hanno dei desideri che sono poi un po' uguali per tutti, di giochi e vestiti che magari insomma non sono propriamente sostenibili. E devo essere sincera, è impossibile dire sempre di no ai nostri figli, perché quel giocattolo ha troppa plastica, è made in Cina e così via. Anche io quindi mi sono trovata a riflettere su questo argomento e ho cercato di trovare la mia soluzione. Diciamo che prima di tutto, secondo me la soluzione più importante è quella di educare i nostri figli alla sostenibilità. Quindi un bambino che cresce in una casa dove non ci sono cannucce, per esempio, dove si fa la raccolta differenziata, dove è normale prendere vestiti di seconda mano, o comunque insomma dove si cerca di essere sostenibili e rispettare la natura e il lavoro delle persone, già si crea una base della loro vita e non possono far altro che migliorare. Anzi vi dirò di più, questa base sarà molto più ricca di quella che avevamo noi quando eravamo dei bambini. Quindi loro partono già avvantaggiati e crescendo non potranno fare altro che informarsi ancora di più e diventare delle persone ancora più attente all'ambiente e alla sostenibilità. Quindi credo che prima di tutto una famiglia che già indirizzi i propri figli in questa direzione ha già fatto tanto. La seconda soluzione che io ho trovato è quella di trovare dei compromessi. È normale perché altrimenti non riusciremo a vivere. Quindi parliamo ad esempio dei giocattoli. Io e mio marito cerchiamo quando possibile di comprare giocattoli che siano magari di legno, comunque ben fatti, che durino nel tempo. Però insomma non ci danniamo l'anima, non ci fustighiamo se capita ogni tanto di comprare, non so, una pistolina d'acqua, di plastica perché alla nostra bambina piace tanto, per esempio. O anche quando riceve dei regali, quindi riceve dei giocattoli, in quei casi insomma assolutamente non li getteremo via o non ci fasciamo la testa perché appunto magari sono fatti di plastica o made in Cina. In realtà il compromesso sta proprio nel insegnare ai nostri figli come trattare quei determinati giocattoli. Quindi non romperli, cercare di trattarli con cura perché nel momento in cui non le serviranno più potranno essere regalati ad esempio all'asilo o ad altri bambini in modo che possano continuare a vivere anche con qualcun altro. Per quanto riguarda invece i vestiti, più o meno vale lo stesso discorso. Io e mio marito non abbiamo mai comprato assolutamente niente per Katia che provenisse dalla fast fashion. Questo per me rimane in realtà un punto fermo perché per quanto un vestito possa costare poco non ho intenzione di finanziare lo sfruttamento del lavoro e l'inquinamento dell'ambiente. Quindi questa è una cosa che noi non facciamo. Però devo dire la verità, mi è capitato ovviamente di comprare dei vestiti nuovi a Katia e ho cercato il made in Italy. Anche in questo caso ho pagato un pochino di più ed è vero i bambini crescono in fretta. Però so che quel vestito lo posso lavare tante volte come succede perché i bambini si sporcano di continuo e non si rovinerà e anzi nel momento in cui le starà troppo piccolo potrò donarlo ad altri bambini. Come è stato fatto con lei? Perché sono molto felice di dire che il 90% del suo armadio è di seconda mano. Perché quando i nostri amici hanno saputo che diventavamo genitori in tanti si sono offerti di regalarci i loro vestiti dei loro figli che ovviamente adesso sono cresciuti e anzi vi dirò che l'hanno fatto anche con un po' di riguardo, con la paura di offenderci e invece non è assolutamente così. Quindi insomma la strategia è quella di trovare il giusto compromesso per non dividersi tra la disperazione del non riuscire ad essere sostenibile al 100% e cercare magari di esserlo facendo anche soffrire o mancare delle cose ai nostri figli e dall'altro ovviamente nemmeno arrendersi e darsi al consumismo sfrenato perché anche questo insomma sarebbe sbagliato. Bene ragazzi il video finisce qui, è un video molto breve però avevo piacere di parlare di questo argomento che secondo me può essere molto interessante soprattutto per chi come me ha dei marmocchi che corrono per casa e che insomma sembrano rendere ancora più difficile questo percorso verso la sostenibilità per aiutare il nostro pianeta. Fatemi sapere che cosa ne pensate, come cercate di essere sostenibili voi con i vostri figli e noi ci vediamo prestissimo con un altro video. Ciao! Ciao!